Almeno voi avete qualcosa da fare di questi tempi? Qualcuno di noi muore, Alda. Anche noi. Di noia. Ma chi è messo questa musica? Grazie. Sei stato in città? Ti sei comportato splendidamente, vero? Non dirlo. Un certo Michele si è rivolto nella tomba. Non mi interessa. Siete stati battuti? Già. Adoro gli uomini battuti. Ho promesso a me stesso. Anche stasera? Potrebbe essere l'ultima. oh. So fermi. Poi. Mi interessa. Mi interessa. Ciao. Ma.